ragazzi buongiorno mi raccomando vi ricordo che la live q questa pasta un caffa vi inseriscono il gruppo telega sottocorro la patricina sottocorro la patricina ii non è rima di donna perchè vogliamo diventare la ma allora come è andata la vacanza benissimo ho visto la città e poi la natura E va bene, non fa niente, ragazzi. Giorge! Sì, facciamoci. Ragazzi, io comunque volevo informarli che le live chiuse sono aperte, non fate caso a questo volo. Quindi se volete entrare, basta mandare un K e siete dentro, va bene? Vi inserisco nel gruppo Telegram. Una vita che si tiene compagnia. Grazie. 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 grazie ma tu me entiendes solo se hable in espanol hable in espanol e tu italiano grazie 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 a tutti. 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 Ricky. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... Mamma mia... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... Ti piace a tutti. Allora... Comunque... Allora... 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 Io... shampoo... ... Allora... ... 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